per la categoria 66 kg pro per il team Wolf Temple all'angolo rosso Emanuele Zaccaria all'angolo blu per il Fight Clan Setteville Renzo Diezzi 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 Grazie. Bravo. Dai, respira e scarica. Bravo, così. Vai, vai, vai. Ok, vai. Martello, continua martello. Vai, tranquillo. Nella posizione. Bravo. Di nuovo. Respira. Trouch space e scarica. Ok, con il campo. Vai, bravo. E così, continuo, continuo. Vai, dentro, dai. Dai, ferma, dai. Vai, continuo, continuo, continuo. Vai, bravo, continuo. Vai. Vai, spiso, vai spiso. Bravo, bravo. Ok. Caccio diretto, caccio diretto. Vabbè, ci stiamo rendendo. Vai. Bravissimo. Vince per KO Tecnico la prima ripresa. Emanuele Zaccaria. Applausi. 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 Emanuele Santa Maria.